Il Comitato di Quartiere Zona Pep avrà presto una sede per programmare e pianificare le varie attività. L'annuncio è arrivato ieri nel corso della partecipata festa della primavera dall'assessore comunale Antonio Angelone. Animazione, musica, mega merenda, tanta allegria hanno fatto da cornice all'evento preparato con cura dal comitato preseduto da Bruno Ackerman e da tutti i volontari che hanno trasformato la Zona Pep in un quartiere vivo e foriero di iniziative. Ma anche le istituzioni devono fare la loro parte. De aree verdi e parchi gioco in città ce ne sono ma sarebbe bello averne molti di più, magari anche a tema, interviene l'assessore. Il problema di tutte le amministrazioni è la manutenzione, il poco personale a disposizione e le risorse sempre minori. Quindi benvengano questi tipi di iniziative del tutto volontarie, di persone con un alto senso civico, attenzione al decoro, alla sicurezza del luogo che rappresentano un esempio di vita per i piccoli. Angelone ha aggiunto che l'amministrazione non farà mancare proprio a sostegno l'attività del comitato con contributi economici per le manutenzioni e per individuare un locale da destinare a sede di riunioni e formazioni civiche ed ambientali. Il mio augurio è che questo sia un esempio per smuovere le coscienze di tanti per formare simili comitati. Vi rimetto al buon cuore e sensibilità dei miei concittadini, persone che quando sono chiamate rispondono sempre con forza e generosità. Ha concluso Angelone ricordando che a breve termineranno i lavori al parco giochi di Viale Togliatti e sarà modificato il regolamento per la gestione delle aree gioco.